Sicuramente Danini è entrato bene, come è entrato bene anche Bacinovic e come è entrato Luca Crecco perché non è facile subentrare a partita in corso. Se vado ad analizzare il primo tempo credo che ci sono state 5-6 ripartenze dove potremmo sfruttarle meglio. Nell'occasione di diversi calci d'angoli siamo stati molto più pericolosi. Credo di aver visto un primo tempo diverso perché sotto l'aspetto delle occasioni anche nel primo tempo abbiamo creato qualcosina in più del trapano. Il problema è che il risultato poi a volte fa vedere la partita in maniera diversa. Però è chiaro che il secondo tempo poi abbiamo concretizzato e quindi viene tutto evidenziato. Ma sotto l'aspetto della prestazione ero contento anche il primo tempo. È cambiato solo l'atteggiamento, la determinazione nell'affrontare le cose. Perché se ricordo bene ci sono state 5-6 ripartenze dove magari abbiamo fatto una scelta sbagliata ma veramente gli potremmo far male. È chiaro che poi lo sono passato in vantaggio su un calcio d'angolo e tutto rimane più complicato. Però devo dire che siamo stati bravissimi poi a recuperare la partita. Sì, sì, ma è normale ragazzi. Quello che dite voi è tutto giusto. Gli episodi indirizzano la partita in un modo o in un altro. Però se si va ad analizzare anche il primo tempo, la squadra che ha avuto più occasioni per passare in vantaggio sicuramente è stata... È chiaro che poi con una giornata così calda una squadra che passa in vantaggio può gestirla meglio rispetto all'altra che deve consumare di più.